con audio elite puoi avere tutte le home personalizzabili ecco qui una nuova home il cliente potrà accedere e scaricare altre home continuiamo e possiamo andare fino all'infinito ci sono più di 150 home tutte personalizzabili il cliente sceglie noi adesso mettiamo questa nuova che abbiamo deciso di mettere come home ovviamente abbiamo il cliente aveva una radio base senza display abbiamo messo questo fantastico tablet by audio elite in più una retrocamera 2k guardate un pochino fantastica veramente siamo pronti ad utilizzare maps poteva mancare un dsp comandi al volante stazione in memoria via voce bluetooth quando verrà il cliente lo andiamo a configurare e funzionerà anche il bluetooth con i comandi al volante io vi ringrazio e vi saluto di nuovo con con la retrocamera